La rete di presidi ospedalieri dedicati al covid che si sta delineando nella nostra regione ci consente di iniziare a programmare un piano per la riapertura di tutti gli altri servizi sanitari ripristinando l'assistenza che eravamo stati costretti a rimodulare per far fronte all'emergenza. Lo sottolinea l'assessore alla salute Nicoletta Veri commentando i progetti che stanno prendendo forma su tutti i territori. Ogni ASL ha dunque individuato una struttura già di proprietà da allestire o riconvertire per il covid. All'Aquila saranno ricavati circa 120 posti letto all'ospedale San Salvatore ubicati nel Delta 7 Medico con un investimento che è attualmente di 1 milione e 600 mila euro. Gli interventi sono già a buon punto e in un secondo momento si procederà anche a potenziare una serie di servizi collaterali come l'implementazione del laboratorio analisi. La ASL Lanciano Vastochieti ha individuato come presidio covid il San Camillo di Atessa. Nel nosocomio sono già stati attivati 48 posti letto su un totale previsto di 140 e sono iniziati i ricoveri dei primi pazienti trasferiti da altri ospedali della provincia. Ad Atessa al momento vengono presi in carico pazienti con quadro clinico a bassa e media intensità. L'investimento per l'adeguamento è di un milione e mezzo di euro in parte finanziato da una accordata di imprenditori. A Pescara si è scelto di puntare sullo stabile ex IVAP di Via Rigopiano saranno riconvertiti quattro piani dell'edificio in cui verranno ricavati 214 posti letto di cui 40 di terapia intensiva. L'investimento complessivo è di circa 11 milioni di euro di cui 7 finanziati dalla protezione civile nazionale, 3 dalla Banca d'Italia mentre il resto sarà a carico della ASL. Nel frattempo oltre ai posti letto riconvertiti del Santo Spirito ne sono stati attivati 23 al San Massimo di Penne che dispone anche di quattro posti di rianimazione. La ASL di Teramo infine ha riconvertito in tempi brevissimi il presidio ospedaliero di Atri che ormai da diverse settimane già accoglie i pazienti covid aumentando la dotazione di posti letto in terapia intensiva e aprendo anche alla sperimentazione di nuovi farmaci e terapie. Al San Liberatore sono attivi 79 posti letto di cui 8 in rianimazione. A questi si aggiungono quelli attivati nel terzo lotto del Mazzini di Teramo 37 in totale di cui 17 di rianimazione. La ASL per le opere di messa in sicurezza e trasferimento ha investito circa 500 mila euro. A breve con l'entrata in vigore di tutte le strutture dedicate, conclude l'assessore Veri, potremo gradualmente tornare ad una sorta di normalità sanitaria negli altri presidi ben sapendo però che con il covid dovremmo continuare a convivere ancora per lungo tempo.